Buongiorno a tutti, oggi parliamo di riforma dello sport. Già da tempo è in corso tutta una procedura per normare lo sport e il lavoro sportivo perché fino al primo luglio 2023 il mondo dello sport era un mondo, il mondo di lavoro dello sport era un mondo un po' a sé ossia c'erano i compensi sportivi direttanti fino a 10.000 all'anno esenti da imposte e in sostanza non c'erano tutele non c'era riconoscimento del lavoro professionale e dei lavoratori sportivi. Con la riforma dello sport viene fatto un cambiamento direi molto sostanziale perché qui parliamo proprio di lavoro sportivo con una serie però di adempimenti e di compiti da parte delle SD, associazioni sportive e tantistiche e delle SSD, società sportive e tantistiche, che hanno preoccupato e preoccupano tuttora non pochi presidenti. Da quando decorre tale riforma e gli adempimenti devono essere posti in essere entro quale data? La riforma come dicevo decorre dal primo luglio 2023, anche qui il fatto di far partire la riforma metano comporterà variegati problemi di gestione sia dei professionisti contabili e del lavoro sia anche in termini di adempimenti un po' gravosi sulle società sportive e ASD. Abbiamo il tempo diciamo per porre in essere la stagampata e gli adempimenti entro il 31 di ottobre 2023 quindi siamo abbastanza vicini sia in attesa anche di circolari esaustive da parte delle agenzie entrate, dell'Inps e anche per certi casi dell'Inail. Occorre anche modificare gli statuti delle associazioni sportive? Sicuramente sì, occorre adeguare tutti gli statuti entro il 31-12-2023 in esenzione di imposti di registro per fortuna cioè non occorre pagare le classiche 200 euro per registrare l'atto e attenzione che questo adeguamento statuto va posto in essere convocando precedentemente l'assemblea straordinaria e non ordinaria e quindi poi registrare il nuovo statuto adeguato alla normativa vigente entro il 31-12-2023. Quando si tratta di cococò sportivo cosa si intende? Beh qui si sarebbe a discutere veramente tanto. In sostanza l'ultimo decreto, il decreto 120, decreto legislativo del 29 agosto 2023, diciamo il secondo decreto correttivo ha innalzato fortunatamente le ore di lavoro da 18 settimanali a 24 settimanali. In sostanza c'è una presunzione che fino a 24 ore settimanali di opera da parte dell'autore sportivo immaginiamo l'istruttore, l'allenatore, l'atleta che viene appunto pagato per opera sportiva fino a 24 ore possa essere inquadrato con il cococò ossia collaborazione coordinata e continuativa. Poi c'è tutta la questione però dei riempimenti relativi a questa figura e anche dei riempimenti relativi alla volontà dello sportivo ma ne parleremo in trasmissioni successive. Si parla anche del certificato penale per i lavoratori sportivi. Di cosa si tratta? È una delle mille novità di questa riforma. Diciamo che in realtà il certificato penale c'era già ma siccome prima non era considerato o comunque non era inquadrato nella tipologia dei lavori fino al primo luglio 2023 perché era un compenso sportivo direttante, ora passando alla tipologia di lavoro sportivo che può essere non solo il cococò può essere anche con partita IVA quindi ci sono anche altre tipologie di contratto ma comunque di lavoro sono e quindi è necessario essendo la SD quindi la SSD rivestendo il ruolo di qualifica meglio dire di attore di lavoro è stato porto in essere il fatto di chiedere il certificato penale per gli istruttori per evitare o per prevenire chiamolo così gli abusi sui minori. Quindi questo è un altro adempimento che deve essere posto in essere molto, anzi dovrebbe essere posto in essere già prima ma credo che sia sufficiente avere una dichiarazione di responsabilità provvisore da parte del lavoratore sportivo in attesa del certificato penale che va chiesto con la massima urgenza. Bene con questo termine di intervento sulla riforma dello sport evidentemente è una riforma che necessiterebbe di veramente ore e ore per la spiegazione comunque qualche pillola settimanale la daremo nel corso del mese di ottobre per ricordare appunto a tutte le associazioni dei lavoratori sportivi di questa grande riforma con questo grande numero anche di adempimenti da porre in essere. Ciao a tutti! Grazie a tutti e arrivederci!